Ma che non è mai? Non si narra la terra ruota da un saluto in questa occasione? Stanno andassi divorziando e non poter farlo il piso, chiedere in te. Ehi, che altro che adorare no? Occhio! Occhio! Rispondendo a scudere i procidi. Chi è Maria Sedato, non arrivano che sempre. Va bene. Occhio! Pronto? Sono l'impiegato comunale Tommaso Cadira. Il sindaco non c'è in questo momento. Comunque può dire... No, 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 no. Non c'è nessun problema. Potete venire, quando volete, il sindaco sarà certamente d'accordo a rivederla. Ah, chi è voi? Una razza e ucchichetta bella. Chi è voi che non puoi telefonare? Una ucchichetta, mi spazio, è una ucchichetta di una giovanetta di primo pelo. E mi è andata, mi è andata, si telefonando da accanto. Però non puoi comprendere, sia di Norbello o di chi l'azza. Tommaso, ma quando hai qualcosa di suo genere? Tu, devi andare a caccheseo, pinzasi di narro che non caccheseo. Ehi, mi spazio, mi spazio, mi spazio, fin dal mezzo di salinerina. Tocca, tocca, abbagliarsi in suga, si prende una bottiglia di filo ferro. No, no, Giovanni. Passi il tempo di andare a domo? Mi chiedo cambiare, questa mutanda e questa franella, che ti agito tutti scorriati. Vai tranquillo, se tu devi prendere una bottiglia di rosolio e si è passata a comprare una panica di sigaretta di un sarbona. Ehi, e poi si è passata a comprare una scatola di zucculate. Ehi, ehi, a tocca. Chi sai che non siete una bella bizzocca, a gusto? Oh, oh. Ehi, a, pu' di gara, se ha fatto un bel bizzocco, eh? Eh, 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 ah. Chi sai che non mi sapete bene? Chi non si è da? Assumacus con me tenerina? Assumacus, va. Oio, oio. Mi sono ci tremolando da, esas campanze. Oio, 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 oio. Che cosa si chiama partente, chi sai, allora? Ah, io, mi vuole un bacco di, un bacco di, un bacco di forza. Ma, come va? Un bacco di profumo. Custa, zette, no, che. Ehi, a, ah. Ehi, a, ah. Su, che adesso? Io non so che l'ho fatta pure, non si stai mai. Custa, è sacra fatta che la povertà mi voglio fare, là. Dopo, costo io per le grandi occasioni. Custa? Eh, la, adesso è pagu' bella. Caso. Oh, salta zette D'è un'orae digna. Se poverà m somewhat e si scunde coro. Ma, a, 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 o, a, 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 pps, a, 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 a a, 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 b, a, 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 a B, a, 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 a. A, b, a, 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 m, a, a, a... a, a B a, 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 a b, a, a b, a, a miserina. che sta andando a tutta l'uomo sai come chi non mi sape d'elegante cosa ne mi zocca guarda su e te procura otti che intoso e te che rannare con questo otti che intoso verso l'arra e cammini per usare subito subito otti che intoso Franco po' conto di Giovanni Zichette lui entra a Giovanni Zichette con noi lui entra dai commenti dunca già Giovanni Zichette ha comporato e a mimmi otti che intoso Franco Ordino e mannavo di miglior fare pagare di suo comune che esso ha servito tornato a po' conto di questa amministrazione ma signora sa verità noi sono tornato a Giovanni Zichette ci date prima a pagare ma come signori non sta ancora a Ennio e non sta ancora a Ribau ma scomprendi e te che rannare non sta a Ribau se sui non che non le nemmo fao ma esporta come io sei aspettante gente vuole una questione amministratega a me da urgente tu e andasa in un secondo momento poi andiamo a tornare a fai dare va Zeo dei nove non mi muovo manco c'è nessun carabinetto a caddo suino si da Pogliao come il Kerbufao e in aria non da Poglio a calcolo che deve proseguire sul tubo a scoprindio nostra signora mia ho gusto ho gusto mi scura tutto su piano che abbiamo preparato non tommai storta bene se ho come piatto che mi chiedo a bai dare un po' di portinare prima di tutto io sto mi chiedo al franco se ho il suo conto e se è la gualla treze batte tutto tutto portate in bussaco non pago una cosa chi mi chiedo e io e te sul sugo che rannare che tu sei cammettato è la giunta le fai un po' tu lei ha te lo sugo che è tos bai no tre quento capo il tipo di cammina chimbe e treze fai d'otto vai che il suo errore cittadone vai in buon'ora vai si si in aria è buono andate in piedi vai che la signora è buono non sa che tu devi a scherzo treze batte lo chimbe sette sette che d'otto che d'otto che d'otto che d'otto che d'otto che d'otto a chichetto 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 e sa mattesi cosa va non mi lo pago non mi lo pago non mi lo pago prima ti ho permesso a Nemo di entrare in nove senza bussare ma si deve finire con il macchino è la e seconda mi deve pensare del poste che io sono sindaco ascolta cliccate da capare a voi che vi è stransire su Montonarzo ha scoprendo chiaro e tu ha scoprendo questo sindaco io questa domanda l'ha fatto io chiaro a vai che ti ho scoprendo con la mordicato altro se si deve domanda a te vaga e ma vediamo che ti ho scoperto a chiedere compreso? Allora, chi è qui da nuova che possiamo spostare sul mondo alto? Chichetto è subendo da nuova. Ma dove dici che chichetto è il macco? Ah, chichetto è il macco? Eh. Come ha detto il drago ai nove? Se cazzo viene a carappare, è cazzo comprende bene chi è il macco. Tu e la mia non mi dà conto giusto, mi mata male che ha sposto il tuo frasco. Nostra signora mia, se loro chichetto mi sapevano a Minde Zega sul zucco. Non c'è manco l'ommaso, noi sto rau. Tocca a serrare. Atti, a serrare. Serrare. Serrare tutto qua. Mi canto subito prima che torri a chichetto.